ci siamo ragazzi finalmente ci siamo ciao ben arrivati fatemi fare la prova tecnica perché devo ancora sistemare un po' di cose tipo sistemare lo schermo e regolare il volume, nel frattempo ditemi se si sente, mandatemi gli ok e poi partiamo subito allora sto regolando le dimensioni dello schermo e adesso anche controllo il volume allora devo andare qui vediamo il volume il volume del microfono è un po' basso ok, adesso dovrebbe essere a posto vedo tutti gli ok partiamo subito allora, devo andare qui ciao, eccoci bentornati sul canale YouTube di Associazione Culturale Maggiolina grazie per questa lunghissima attesa ragazzi ero in chat anch'io stavo partecipando a un corso di aggiornamento di YouTube che era oggi doveva finire alle 18.30 ho detto vabbè, prendiamoci un quarto d'ora e siamo arrivati proprio di corsa di corsa è stato bello vedervi aspettare così tanto grazie, 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 grazie infinite allora, vediamo di che cosa parliamo oggi andiamo subito verso il nostro discorso abbiamo la nostra oretta come al solito quindi non è che dobbiamo fare in fretta per forza ma sento la corsa dell'essere arrivato diciamo all'ultimo minuto allora fatemi vedere se si vede bene tutto a posto sì devo quindi aprire il sito Amici di Maggiolina quindi vado sul browser si è aperto sull'altra schermata eccolo qui e vado sul sito Amici Amici Asmaggiolina premo e arriviamo qui allora vediamo che cosa facciamo oggi innanzitutto intanto grazie Emiliano grazie, grazie, grazie infinite per l'uso del super sticker super sticker super chat e abbonamenti ragazzi per noi sono veramente importantissimi anche i sistemi che utilizzate diciamo extra YouTube per sostenerci importantissimi grazie e anzi ad alcune persone non riusciamo a mandare un grazie perché magari non abbiamo un email o non abbiamo un riferimento quindi vi giunga il nostro grazie fatevi sentire mandateci un email chiedete la richiesta fate la richiesta tessera sul sito Associazione Maggiolina così possiamo ringraziarvi ancora e potete far parte del nostro sito della nostra comunità diciamo e ci farebbe molto piacere quindi vi aspettiamo allora argomento di oggi approfondiamo i preferiti visto che è stato interesse e approfondiamo anche la scansione dei documenti perché ci sono state varie domande e cerchiamo di girare attorno a questa cosa e vediamo che cosa possiamo fare poi ovviamente risponderò alle domande ho visto che ce ne sono già dall'inizio delle 5 quindi copieremo guarderemo tutta quanta la chat e risponderò alle domande quello che non riusciremo a fare qui in diretta sapete che troverete sabato sul video abbonati quindi il video di sabato sarà una risposta alle domande di tutti saluto Orazia che festeggia i suoi 25 mesi da abbonata grazie grazie infinite perché per noi è importantissimo 28 mesi perché sotto c'è scritto sopra c'è scritto utente abbonato da 28 mesi sotto abbonata da 25 mesi bel preguardo ma comunque 25-28 quelli che siano grazie grazie infinite ciao Orazia grazie anche per la super chat saluto Benedetto ciao Benedetto grazie per i tuoi sei mesi di abbonamento ci siamo già detti le altre cose della giornata per quanto ti riguarda allora andiamo a vedere anche questo domani uscirà il video di esercitazione e navighiamo in internet e proviamo le famose scorciatoie quindi quei fogli che noi abbiamo scaricato sempre in un'esercitazione precedente le mettiamo in pratica devo dire che sono veramente comodi fantastici e inizieranno ad entrare anche nel nostro uso quotidiano della navigazione per cui fatevi un salto a vedere quel video perché ci sono cose interessanti un po' alla volta perché sono veramente tanti questi tasti scorciatoia e vale la pena che alcuni li tiriamo fuori li estrapoliamo e li utilizziamo al meglio c'è anche il nuovo sfondo degli amici di Maggiolina per il desktop per chi per chi diciamo gradisce questa cosa sapete che tutte le settimane ne esce uno più o meno insomma finora è stato così allora primo discorso i preferiti dei preferiti dobbiamo dirci ancora due cose ce ne diciamo una questa sera e un'altra ce la diremo in un video apposito e sono queste i preferiti sincronizzati con lo smartphone quindi i preferiti che ho io qui sull'account da esperimento li ritrovo anche sullo smartphone se c'è lo stesso account quindi il bello di usare i preferiti anche con la sincronizzazione è che i due browser sono sincronizzati quindi quello che faccio di là ritrovo qui e quello che faccio qui ritrovo di là saluto Giulietta ciao Giulietta grazie per l'uso della super chat grazie grazie infinite Giulietta bello sapere che ci sei che va tutto bene grazie infinite anche del messaggio di oggi allora tanto per dire qui vado in preferiti tre pallini preferiti dove preferiti eccolo qua vediamo che ho i preferiti della barra gli altri preferiti che sono divisi in ricette e verona come abbiamo fatto nel video e ho anche i preferiti su dispositivi mobili ho messo anche lì il sito amici di Maggiolina perché usando il cellulare ho aggiunto quel preferito e quindi adesso si è aggiunto anche qua e questo lo vedremo quello che volevo vedere oggi per quanto riguarda i preferiti invece è la portabilità del preferito nel senso che io mi dico va bene sto usando Chrome ma se io volessi usare Edge quindi Microsoft Edge come browser o se volessi usare Firefox come browser o anche Edge o anche Firefox vi dico sempre teniamone più di uno due browser almeno due perché quando uno stenta c'è qualcosa di strano andiamo sull'altro così siamo sicuri che non è il browser la causa di quel malfunzionamento come faccio ad avere i miei preferiti anche dall'altra parte allora in passato si esportavano i preferiti da una parte e si importavano i preferiti dall'altra quindi era piuttosto semplice però hanno semplificato ancora di più la cosa nel senso che io sono qui col mio browser Chrome ho tutti i preferiti ho messo a posto tutto e non devo esportarli potrei ancora perché magari li uso per qualcosa d'altro ma non devo esportarli io posso invece importarli da un altro browser quindi in un altro browser posso andare a risucchiarmi i preferiti vediamo che cosa abbiamo la barra è questa ce ne sono tre sulla barra dentro altri preferiti ci sono ricette risotto alla pilota e vabbè la torta e poi c'è Verona quindi ci sono tre preferiti sulla barra e due cartelle dall'altra parte chiudo il browser Chrome e adesso provo a risucchiarli in un browser diverso in questo caso Edge quindi vado su Microsoft Edge perché decido che voglio utilizzare anche anche quello eccolo qua allora questa schermata qua la chiudo già e sono qui ok grazie va bene così sono nel mio sono in questo browser adesso voglio acquisire i preferiti vediamo se troviamo la strada abituiamoci a leggere il computer e non ad andare sempre per questo si fa lì quell'altro si fa là eccetera perché le cose cambiano sono come le strade con cui giriamo in auto bisogna leggere la strada mentre vai si sai la strada ma la rotonda nuova la fai la deviazione la fai quindi dobbiamo un attimo essere sempre impessibili quindi direi pallini e poi guardare se c'è preferiti preferiti c'è premo vediamo cosa succede e saltano fuori queste due schermate qua barra dei preferiti e altri preferiti la barra intanto qua non la vedo altri preferiti se ci clicco sopra non succede niente se clicco sulla barra non succede niente secondo me perché non ce ne sono proviamo a vedere se li posso importare se posso acquisire i preferiti che ho su Chrome vado sui tre pallini qui perché i tre pallini mi viene da dire ma impostazioni di solito è quello e c'è importa preferiti premo su importa preferiti e adesso vediamo da dove li voglio importare beh lui ha già un po' impostato tutto da Google Chrome profilo Daniele Castelletti perché potrei scegliere anche ecco quello di Maggiolina Test lui leggendo Google Chrome vede anche quali sono gli account che io sto utilizzando con Chrome qui sotto vedete che ho tre iconcine di Chrome perché io ho il profilo Maggiolina il profilo esperimento e il profilo personale quindi scelgo si Chrome qui potrei scegliere altri browser intanto questi ci sono perché io ho i browser nel computer se non avessi Chrome nel computer non ci sarebbe evidentemente la scelta quindi Chrome va bene profilo Maggiolina Test che è quello da esperimenti che cosa voglio importare tutto dati personali infopagamento cronologie eccetera o solo i preferiti facciamo solo i preferiti segnalibri o preferiti perché ad esempio Firefox lo chiama segnalibri e non preferiti e quindi a volte si può fare confusione potrei importare tutto ma no voglio solo i segnalibri vediamo cosa succede allora secondo me adesso qui non mi ha detto niente ma guardavo oggi pomeriggio quando facevo le prove mi pare di capire che è meglio che Chrome sia chiuso per poter importare i preferiti ciao Aldo grazie infinite per la riga grazie grazie infinite allora faccio importa importa fatto abbiamo trasferito i tuoi dati caspita ci hai impiegato pochissimo perché perché sono pochi e perché non occupano tanto spazio qualcuno mi ha detto caspita ma io ho tanti preferiti riempio il computer no ragazzi non occupano praticamente spazio sono solo delle paroline pochissimo una goccia nell'oceano se dovessimo fare il paragone quindi tutti i preferiti che volete non c'è nessun problema dico fatto e basta adesso devo solo vedere se è finito quindi qui posso chiudere i preferiti hanno una stella accesa adesso se io ci premo sopra modifica i preferiti in questa pagina no qui vediamo raccolte no vado sui tre pallini preferiti e vediamo che adesso preferiti dispositivo mobile quindi prende anche immobile poi ho altri preferiti le ricette il risotto la torta e la barra dei preferiti che ha questi qui ha questi tre qua però io la barra dei preferiti non la vedo dovrò accenderla se premo qua no per accendere la barra dei preferiti faremo come con chrome pallini e vediamo se c'è qualcosa che dice aspetto qualcosa impostazioni vediamo un po' impostazioni qua in basso alle mie spalle si apre questa schermata aspetto vediamo un po' eccola qua nascondi barra del titolo schede verticali no non è quello mostra menu azioni scheda mostra barra dei preferiti dico dappertutto sempre ed eccola qua barra dei preferiti con i nostri preferiti quindi abbiamo acquisito i preferiti di un altro browser in edge e lo stesso possono fare tutti quindi io posso fare la stessa cosa con firefox posso fare la stessa cosa con chrome quindi c'è una reversibilità tra tutte le cose qui dico lasciami stare e chiudo con la x quindi questo l'abbiamo fatto se volessi farlo con firefox stesso discorso apro firefox e vediamo dove vado a finire sono qui vado qui ci sono le righine invece dei pallini ma siamo sempre lì allora righine segnalibri quindi firefox non lo chiama preferiti ma lo chiama segnalibri non mi ricordo mai adesso mi è venuto perché lo guardavo oggi pomeriggio qui alle mie spalle c'è la voce gestisci segnalibri quindi direi che è qui premo e vediamo che cosa posso fare importa e salva premo e dico importa dati da un altro browser qui potrei importarli da html cioè se fossero esportati ma non si usa più importa dati da un altro browser premo l'altro browser è chrome assicurarsi che il browser selezionato sia chiuso prima di procedere quindi ci sta dico avanti persona 1 Rubino Mattia Daniele Daniele qui sono le persone che ho su quel browser lì anche persone che non esistono più Rubino e Mattia erano esperimenti non ci sono più e sarà uno dei due Daniele chissà qual è adesso vabbè prendo questo l'ultimo pensando che sia l'ultimo in ordine di tempo dico avanti e prendo solo anche qui solo i segnalibri le password salvate già e tanto se le ho salvate in un browser sapete che sarebbe meglio di no queste ma sì quelle lì le ho salvate così ma sarebbe meglio di no quindi non prendiamole dentro anche in altri browser che aumentiamo diciamo perdiamo la sicurezza della cosa dico avanti anche qui è stato fatto fine chiudo tutto qui la barra è già venuta fuori e ci siamo questi preferiti si sono aggiunti a quelli che c'erano già perché qui effettivamente ne avevo altri e si sono aggiunti associazione Maggiolina amici Maggiolina l'icona non l'ha presa pazienza e il doppio Google quindi sono arrivati questi li tiro via vediamo se funziona così anche qua lo voglio rimuovere elimina quindi come come il altro browser elimina tasto destro elimina e ci siamo se vado qui in preferiti vediamo se ci sono segnalibri vediamo se ci sono anche le sottocartelle Arena no qua però non mi ha fatto le sottocartelle ha messo tutto quanto insieme quindi meno compatibile Chrome e Edge sono fatti sullo stesso sito sullo stesso motore Google Chrome o Microsoft Edge alla fine il programma di base sotto è sempre quello quindi è perfettamente compatibile Firefox invece è un progetto diverso e quindi ad esempio le cartelle non le ha portate e non le ho dovrei eventualmente ricostruirle da solo va bene ci siamo con i preferiti direi che li importo vado nel browser e dico importo non ho bisogno di averli esportati in precedenza sono sono già a posto così va bene allora adesso ragioniamo sulla digitalizzazione perché mi avete chiesto tante cose sulla digitalizzazione sto andando qui nella mia schermata a guardarmi i commenti perché li prendiamo come come diciamo come spunto per rispondere ai commenti principali allora il primo è una prima cosa che mi è stata chiesta tante volte e anche qui in chat ho visto allora aspettiamo che devo vederli tutti eccomi qua è questo vediamo se lo trovo è uno dei primi commenti giù in fondo volevo proprio leggerlo sono tanti eccolo qua allora Teodomiro dice vedo video molto utile ma chiedo se c'è un limite memoria permettendo con google drive scannerizzare più documenti in un unico pdf grazie per la cortesia allora Teodomiro vedo che ha modificato il commento ma l'avevo letto anche prima mi domanda se quando acquisisco le pagine con google drive quindi quando scansiono le pagine con google drive quante ne posso scansionare di pagine se ne ho 2 se ne ho 3 se ne ho 10 se ne ho 20 se ne ho 50 allora perché lui mi scriveva guarda che io ho usato un'altra applicazione me ne faceva fare poche e poi dopo non potevo caricarlo allora il concetto del quante posso caricarne è strano nel senso che Teodomiro mi diceva di un'applicazione che utilizzo anch'io che è sia versione gratuita sia versione a pagamento quindi quella può darsi che sia lei a limitare il caricamento dice vabbè te o vuoi usare quella gratis però non vuoi comprarla mai noi te ne facciamo caricare massimo 3 pagine 3 pagine basta se ne vuoi 4 se ne vuoi 5 se ne vuoi 10 e no compri l'applicazione completa e stop il caso di google drive invece non è così io non so se ci sia un limite non ho provato non ho avuto bisogno di provare 1, 2, 3, 5, 10, 100 pagine lì proverete voi a vedere le pagine che vi serve se ve lo carica ve lo carica ma secondo me il limite non c'è perché l'applicazione è già gratis drive è gratis e basta quindi secondo me puoi scansionare tutte le pagine che vuoi ma non vuol dire che potrai caricare tutte le pagine che vuoi perché quello è un altro discorso ragioniamo su questo allora vado in esplora file ah e in download dove ho dei file eccoli qua questi ci servono per per lavorare oggi allora io ho dei file digitalizzati devo ingrandire la finestra altrimenti non lo vedo questo è un file di due pagine è questo file qua in definitiva che io ho scansionato nel video eccetera adesso l'ho portato lì a computer per farvi vedere una cosa questa sera quello lì è di due pagine dimensione del file vediamo dimensione del file 372 kb niente ok mentre invece qui ho un altro pdf manuale v169 è un manuale di un'automobile manuale meccanico eccetera di un'automobile sempre un pdf quindi stessa roba che sia stato sempre un pdf di pagine scansionate che siano state fatte col cellulare che siano state fatte con altre roba non importa un pdf è un pdf di tante pagine questo non so di quante la dimensione non so se si vede è 115 megabyte cos'era 300 300 erotti kilobyte pochi 115 megabyte pochi anche quelli ma di più molto di più almeno 3-4 volte il 372 quindi molto di più quindi il problema non è se google drive è in grado di scansionarmi le 100 pagine del manuale è dove le devo mandare quelle pagine quando noi dobbiamo compilare moduli e poi mandarli di solito dall'altra parte c'è un limite di capienza perché se una persona non è tanto pratica carica quintali di roba nel senso file molto grandi e intasa i computer dall'altra parte quindi tutti quelli che ricevono i nostri documenti che ricevono questi documenti danno un limite al documento congruo nel senso che se sanno che la carta d'identità è fronte e retro se sanno che il modulo dell'assicurazione firmato online è di 3 pagine il limite è congruo per poter caricare tranquillamente le 3 pagine se però io voglio mandargli un manuale da 150 pagine vado fuori misura quindi e non è facile dire ma le fa tutte non le fa tutte dipende da quello che devi fare quindi secondo me google drive le scansiona tutte prova comunque quante pagine dovrai fare quindi prova e lo sai sit in due avermi chiesto questa cosa qui si prova e si vede se è abbastanza se no si cerca un'altra soluzione ma il caricamento sul sito poi è un altro discorso perché dipende dal sito poi l'altra cosa che mi avevate chiesto non volevo dimenticarmene visto che ne parliamo proprio in questo allora qualcuno mi diceva un documento una singola pagina come si fa a cancellare o a spostare da un documento pdf una singola pagina allora ragazzi entriamo nell'ordine di idee che un pdf è un file non modificabile per eccellenza nel senso che il file digitalizzato in pdf o comunque un pdf nasce per non essere cambiato lo scopo è quello di non essere cambiato essere leggero mandarlo ed essere quello non è un file di testo non è un file di scrittura quindi si può fare tutto se avete acrobat reader acrobat pdf pro versione a pagamento perché quello modifica i pdf quindi con la versione di adobe acrobat pro potete modificare i pdf ma non ha senso togliere una pagina mettere una pagina ma quando mai dobbiamo fare una cosa di questo genere se ho il manuale che mi ha dato qualcun altro ci sono quelle pagine lì è un pdf non posso lavorarci in definitiva non dovrei poter lavorarci quindi sappiamo che è un pdf è un documento chiuso possiamo usarlo bene ma è un documento chiuso vediamo se siamo a posto si è visto una schermata strana perché stavo lavorando con un'altra pagina quindi non esiste dire posso togliere una pagina posso mettere una pagina ma no anche se in qualche modo si può fare ma faticando perché non è quello lo scopo una domanda un po' più lecita è ma se io devo cancellare dei dati sensibili da un pdf e nel mio documento che voglio scansionare devo cancellare dei dati sensibili a me non è mai capitato cioè se ti chiedono un documento non è che glielo mandi senza l'indirizzo serve che ci sia tutto quindi ci sta però ok devo scansionare un documento eccetera la via più semplice è quella di prendere un pennarello e tirare una riga sulla stampa prima di scansionarla così non ci piove più però se il documento è originale e tu lo devi modificare e puoi fare in due modi secondo me ce ne saranno tanti questi sono i due che mi vengono in mente gratis perché a pagamento si può fare tutto ci sono un sacco di programmi che tu puoi andare a scaricare per modificare il pdf e allora se devo scaricare un programma per modificare il pdf prendo quello di adobe quello ufficiale non vado a prendermi programmi strani che arrivano da chissà dove magari pagandoli anche quando quello ufficiale è adobe che adobe adobe non so come si dica esattamente che si scrive adobe comunque se lo cercate perché è lui che ha creato il pdf e lui che ha dato il programma per modificare il pdf quindi da lì si compra quello si modifica puoi fare tutto quello che vuoi lo salvi e sei a posto però io presumo che per tirare una riga su un foglio una volta all'anno se ci fosse gratis sarebbe meglio quindi per poter fare questa cosa gratis dobbiamo usare un programma in grado di leggere il file pdf modificarlo e salvarlo ancora come file pdf perché altrimenti non ha senso perché se non è più un pdf non posso più usarlo allo scopo di mandarlo di qua o di là ci saranno ci sono vari programmi io conosco Gimp in questo caso lo faccio a computer non ho idea di una cosa fattibile sul cellulare ci sarà sicuramente gratuito eccetera Gimp quindi io prendo il mio pdf tasto destro questo vado su apri con e dico Gimp Gimp è un software di fotoritocco gratuito che è in grado di riconoscere ed aprire un pdf modificarlo e salvarlo di nuovo come un pdf e quindi io ho fatto le scansioni e adesso vediamo quindi lui si sta aprendo mi dice guarda seleziona tutto l'intervallo pagina 1 ci sarà anche una pagina 2 va bene apri le pagine come livelli perfetto importa e lui mi apre la pagina però l'avevo già modificato allora come non detto chiudiamo tutto e lo riprendiamo quindi questo file qui l'avevo già modificato lo cancello lo butto via lo riprendo quindi io l'ho scansionato col mio cellulare l'ho mandato sulla nuvola su google drive perché l'ho scaricato su google drive vado a prenderlo col computer quindi vado in google drive eccolo qua l'account è lo stesso del cellulare altrimenti non lo trovo questo è il documento lo scarico tasto destro scarica invece di aprirlo qui potrei fare un'altra cosa bene che siamo arrivati fin qua allora questo documento potrei fare in questo modo tasto destro aprirlo con questi due software qui questi in teoria dovrebbero permettermi di modificare un pdf ok e quindi bene lo faccio online col cellulare eccetera eccetera il brutto di questa cosa è che ora gli dico di farlo è che per poterlo usare devo concedere a questo software di entrare e lavorare nel mio google drive perché gli serve gli devo dare il documento lui ha bisogno di venire a vederlo bene io non voglio non voglio che nessun software esterno vada a leggere l'interno di un mio account google quale che sia in particolare google drive dove magari tengo altre cose non vuol dire che questo software sia dannoso lo trovo in google drive l'avranno guardato loro per sapere se è dannoso o no ma a me non interessa non voglio dare accesso al mio account google a software di terze parti dipende da quello che ci tengo però per partito preso non do mai accesso a un software esterno al mia nuvola google perché deve essere sicura in questo periodo non voglio addentrarmi nel discorso dobbiamo essere anche più attenti al mondo online ai software che carichiamo nel nostro computer si è letto già in giro già lo sapete e quindi non lo dico non ho volutamente dirlo per non addentrarmi in quel discorso lì ma sappiamo che dobbiamo fare attenzione ai nostri software e quindi non voglio avere il pensiero ce l'avevo anche prima non è adesso un discorso di adesso il mio account google drive è sicuro i miei dati sono sicuri sulla nuvola se ci va meno gente possibile a guardare dentro in questo caso nessuno quindi io rinuncio a questa opzione e mi faccio la cosa a mano però qua chi vuole chi dice ma sì ma da fare io lo faccio può andare su questo software o sull'altro io scelgo di scaricarmi il file l'ho scaricato e di modificarlo con Gimp nel mio computer vado in download tasto destro apri con dico Gimp in questo caso Gimp e adesso lavoro sulle immagini vediamo se salta fuori questa immagine sono le due pagine apro pagina 1 dico importa e adesso ci sono bisognerà vedere se riesce a tenerne due di pagine questo è il foglio scansionato mi ha dato una pagina sola io vorrei vederle tutte e due le pagine non lo so se poi me le tiene tutte e due comunque prendo il foglio posso anche pulirlo qui c'è c'è un po' di colore era tutto sgualcito questo foglio qui gira da una vita ormai per me prendo col conto da gocce lo stesso bianco prendo il pennello e poi ingrandisco anche un po' il pennello e tolgo via queste ombre così intanto ne approfitto anche per pulire il foglio la scansione cancello quella riga lì che non volevo rimpicciolisco un po' il pennello e vado anche a cancellare il resto devo rimpicciolirlo di più o ingrandire il foglio però devo fare tutte e due le cose quindi io vado a cancellare questi segni qui qui ho sbagliato ctrl z quando sbagliamo ok ok qui cancello sto praticamente colorandoci sopra lo scopo è colorarci sopra e a questo punto vabbè qua c'è c'è la riga a questo punto non voglio che si veda scorrimento e lo posso cancellare ci pitturo sopra di bianco e va via oppure voglio far vedere che i dati sono stati coperti allora ci pitturo sopra di nero prendo il nero e ci pitturo sopra di nero e quindi io ho coperto un dato del file pdf stop poi lo salvo sovrascrivendolo vediamo file sovrascrivi documento eccetera e quindi basta ho finito ho modificato il documento qui posso dire abbandona le modifiche perché il file è stato modificato non sono sicuro che abbia tenuto le due pagine adesso proviamo ad aprirlo apri con beh non lo apro come col pdf quindi ci clicco sopra due volte e non mi ha tenuto le due pagine quindi con una pagina sola ok con due pagine no perché quando lo apro scelgo una pagina o l'altra poi non le ho tutte e due quindi non ci siamo serve proprio questo software qua per modificare il pdf però è un software a pagamento posso provarlo gratis sette giorni poi dopo si paga questo è acrobat reader acrobat reader dc il software di gestione pdf questo è gratis però se voglio fare modifiche eccetera compro quello a pagamento e quello fa tutto senza problemi il resto sono esperimenti poi ultimo discorso sui pdf poi magari rispondo alle domande ma vedo che abbiamo un po' di tempo allora l'altro discorso è questo domanda intelligente anche questa qua come tutte mi avete chiesto ma se io ho due documenti carta d'identità fronte e retro li devo mandare però li vogliono su un'unica facciata come faccio avere il mio documento su un'unica facciata se quando faccio le foto sono due cioè un documento è uno o lo metto da una parte o lo metto dall'altra non è che posso fare la foto doppia una sull'altra come faccio devo fare il montaggio successivamente quindi io ho già scansionato i miei documenti li ho già ritagliati ho sistemato le foto lo apro ho già anche mascherato i dati sensibili questo è un vecchio documento ma l'ho mascherato lo stesso ovviamente se lo spedisco perché serve il mio documento devono essere in chiaro tutti non posso mandare un documento senza i documenti in chiaro senza le diciture in chiaro una cosa importante intanto vedete che qua avevo l'illuminazione sbagliata perché qui è giallo e qui è bianco quindi c'era della luce gialla va bene lo stesso però c'era della luce gialla adesso si mandano a colore in passato gli andava bene anche in bianco e nero il documento adesso mi è capitato più volte che mi dicano no il documento serve a colori così come è in foto eccetera e quindi non tolgo più il colore tengo il colore come faccio ad averli in un'unica pagina prendo un programma che li possa contenere tutti e due e che poi possa salvare un pdf ce ne sono diversi uno di questi è LibreOffice quindi io apro LibreOffice che ho scaricato gratuitamente da internet l'abbiamo fatto insieme tante volte apro LibreOffice che mi dà una pagina adesso me la darà un foglio e in quel foglio io ci metto i due documenti certo devo essere capace di usare anche LibreOffice sapete che c'è il corso sul nostro canale anche per LibreOffice è un programma di videoscrittura gratuito e abbastanza professionale per non dire molto professionale che è in grado di fare anche questa cosa allora sono qui è una vita che non lo faccio con questo software ma funziona più o meno alla stessa maniera devo metterci dentro qualcosa ok vado in inserisci è un'immagine quel qualcosa è un file immagine quindi dico immagine e ce l'ho in download download eccola qua allora una questa la apro salta fuori qui quindi dopo qui la posso posizionare a piacere poi faccio clicco fuori perché se questa è selezionata quando inserisco la nuova si sostituisce a questa clicco fuori faccio di nuovo inserisci immagine vado a prendere il retro o il fronte o come lo vogliamo chiamare lo posiziono sotto trascinandolo fatto adesso questo documento questo foglio contiene il mio documento fronte e retro lo trasformo in un pdf questa voce qui è esporta direttamente in pdf premo su esporta direttamente in pdf lo metto anche questo in download così lo vediamo là e lo chiamo documento 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 daniele e poi salvo documento daniele salvo fatto questo lo posso buttare via senza salvare perché non mi interessa e vado in esplora file download trovo documento daniele in pdf lo apro e questo documento è un foglio a4 stampabile un unico foglio che contiene la carta d'identità il documento scansionato a fronte e retro poi questo lo salvo cioè lo tengo da qualche parte perché alla fine quando vi chiedono un documento eccolo qui è già pronto quindi il lavoro lo faccio una volta e dopo lo tengo lì mi faccio una cartella documenti da qualche parte e sono pronto a spararlo quando mi serve perché appunto abbiamo lavorato un po' per fare le foto per ritagliarle eccetera eccetera volevo mostrarvi anche un'altra cosa capita a volte di dover fare quella cosa del mascherare i dati anche su sul documento se hai lì col cellulare col cellulare ad esempio potrei aspettate che mi serve un filo vediamo se funziona senza far perdere la linea va tutto vediamo controllo per vedere se la linea è posto tutto ok potrei usare il mio cellulare per togliere delle cose da una foto il mio cellulare lo fa sappiamo che i cellulari non sono tutti uguali e quindi adesso vediamo quindi io ho fatto le foto della carta d'identità dunque vediamo ah no ho fatto le foto ecco adesso vediamo queste cose qui ho fatto le foto di questo foglio e le voglio modificare perché devo togliere qualcosa quindi devo fare le foto attenzione che questi documenti restano come foto non sono più non sono pdf sono solo foto però arriviamoci prima arriviamoci poi ne parliamo allora apro il cellulare qui devo dirgli ok vediamo se me lo fa fare datemi un secondo ok ha fatto perfetto andiamo qui questa è la foto ok questa è la foto che devo modificare vedete che l'ho fatta al volo sul pavimento neanche troppo bella questa cosa fatemi vedere la chat per vedere di essere a posto con tutto ok no no lasciamo stare google lasciami stare allora questa foto la voglio modificare perché deve diventare un documento la carta d'identità o quello che è modifichiamola tutte le gallerie questa è la galleria del mio cellulare tutte le gallerie possono modificare un'immagine chi più o chi meno il mio fa un bel lavoro quindi vado qui su modifica quindi ho premuto su modifica e adesso la gestisco intanto la ritaglio farei tutto col cellulare non col computer ovviamente però ve lo mostro lo facciamo col computer quindi con le mie ditone andrei qui e direi allora qui devo andare a rimpicciolire tirare via il pavimento qui devo andare a tirare via il pavimento ok poi c'è ancora un po' di pavimento lì ma adesso vediamo la ruoto un po' questa foto perché non sono stato bravo quando l'ho scattata così che sia diritta anche se voglio che il bordo lì sia diritto qui taglio un po' di più quindi pavimento tagliato il bordo questo è dritto qui è dritto tutto a posto ci siamo do il visto e la foto c'è adesso lo voglio sbiancare un po' vado a vedere proviamo su regola vediamo oggi ho fatto i filtri però vediamo su regola se vado sul contrasto e poi lavoro dando un po' di luce vediamo se succede qualcosa no no allora questo lo cancello e vado come ho fatto oggi sui filtri filtri faccio scorrere questi cerco bianco e nero bianco e nero e poi prendo il bianco e nero normale ok è venuto un po' più chiaro ok la tengo così potrei sbiancarla ancora un po' di più ma la tengo così adesso ho bisogno di cancellare dei dati sensibili come facciamo intanto non posso ingrandirla devo andare su facendo scorrere qui cancella elimina questa mia app del mio cellulare mi permette di cancellare anche delle cose posso inzoommare io vediamo se tiro questo e la ingrandisce no non è quello che fa allora questo lo lasciamo a metà provo a ingrandire con le dita eccolo qua e a posizionare no ho sbagliato cancelliamo cancelliamo abbiamo detto gomma ingrandisco con le dita mi posiziono ancora no cancello qui gomma ingrandisco con le dita sposto la pagina devo usare le due dita per spostare la pagina ecco qua e poi devo cancellare delle cose allora ci vado sopra col dito e trascino lì sopra vediamo lo faccio col dito proprio sul telefono in questo caso non ha fatto perché non fai adesso eccolo qua ci vado qui cancello e lui mi cancella le cose metti che io voglio cancellare le parole mi posiziono e cancello scorrimento e lui se ne va voglio cancellare pagina lo cancello e cancello pagina e quindi ho modificato la mia foto poi la salvo do l'ok dico salva e questo documento viene salvato come immagine come immagine jpeg sappiamo che possiamo spedire comunque i documenti anche sotto forma di jpeg e quindi sotto forma di immagine quindi lo potrei mandare così oppure devo aprirlo con un programma in grado di salvare in pdf e trasformarlo in pdf e quindi dopo allunghiamo il giro adesso non voglio fare mille cose l'abbiamo vista tante volte come fare la digitalizzazione però queste erano delle particolarità e basta mi fermerei qui a questo punto e diamo spazio alle vostre domande abbiamo ancora 15 minuti quello che non faccio a tempo a leggere e quello a cui non faccio a tempo a rispondere adesso sapete che risponderò nel video che uscirà sabato quindi parto dall'inizio sto andando indietro con la mia chat con la nostra chat perché siete voi a scriverla e vado a prendere le prime domande vado subito alle domande in modo da risparmiare un po' di spazio allora Salvatore mi dice non riesco a scaricare l'app Maggiolina per il mio pc windows l'app Maggiolina c'era tanto tempo fa e adesso ci sono stati degli aggiornamenti di regolamenti di funzionamento di android eccetera non può più funzionare è proprio una questione di regole di gestione e tutto e quindi non c'è più e vedremo se inventeremo qualcosa d'altro per così avere un'app Maggiolina che faccia qualcosa di interessante Vilt dice buonasera a tutti quando arriva risposta automatica che ufficio è chiuso poi Vilt ho visto che in un'altra email ha specificato meglio in un altro messaggio ha specificato meglio quando è che io scrivo a una come si dice a un ufficio e automaticamente mi dicono ma no è chiuso per ferri ma no è chiuso per ristrutturazione eccetera quando il gestore della posta elettronica regola la posta elettronica con la risposta automatica vediamo se lo troviamo ogni casella di posta elettronica quasi tutte finora tutte mi viene da dire ma non sono sicuro che proprio tutte tutte possano farlo e quindi la nostra può Google può Gmail può possiamo impostare una risposta automatica dire ragazzi io sono chiuso dalle alle io sono in vacanza fino al attenzione al sono in vacanza fino al nel senso che sono via di casa fino al a pubblicizzare tanto questa cosa sapete che magari qualcuno dice a te non sei a casa aspetta che magari ne approfitto quindi attenzione a quello allora risposta automatica nel nostro sito amici di Maggiolina per vedere se salta fuori il video l'abbiamo fatto tante volte e secondo me è questo rispondere o inoltrarre messaggi no due funzioni avanzate guarderei questo risponditore automatico questo Gmail 41 non è l'unico perché abbiamo fatto video in altri corsi ma il Gmail 41 in diretta abbiamo visto come impostare il risponditore automatico so che molti di voi ce l'hanno perché a volte mi scrivete io vi rispondo e mi arriva la risposta automatica del tipo grazie il tuo messaggio è arrivato correttamente appena ho tempo ti risponderò o comunque ti risponderò quanto prima quindi dipende da chi ha fatto il lavoro se l'ha voluto mettere oppure no Bruno ciao Bruno grazie del buonasera Anna dice buonasera Daniele e grazie allora ancora per tutte le informazioni che dai ieri ho cercato di abbonarmi al canale e ho riguardato il video e ho iniziato seguendo i vari passaggi grazie grande grande Anna grazie poi c'è Vilte che specifica appunto la sua domanda Anna ancora sono arrivata ah ecco sono arrivata Anna dice io ho fatto tutto il lavoro sono arrivata alla verifica della carta non sono riuscita ad avere il codice da inserire perché nell'area per vedere i movimenti della Postepay mi danno il saldo in tempo reale ma non i movimenti no attenzione praticamente quello che succede ad Anna è questo quando si fa un acquisto online spesso c'è da verificare se è la prima volta nel caso di YouTube ma anche nel caso di altre situazioni c'è da verificare che la carta sia effettivamente tua cioè tu paghi con una carta di credito ma è tua e quindi ci vuole a volte una verifica loro ti mandano un codice che tu devi andare a leggere nei movimenti della tua carta quindi lei si dice ma io sono andata nella mia app Postepay a guardare i movimenti vedono che è stato prelevato l'euro i 40 centesimi quello che è per fare la prova e in quella descrizione del movimento dovrei ricevere il codice da scrivere dentro a Google però non lo vedo non c'è quel movimento in realtà c'è tu Anna quando sei lì devi cercare la voce movimenti da contabilizzare la trovi perché c'è ci sono quei movimenti che sono nel limbo li hai appena fatti non si sono completati del tutto ti hanno già tolto i soldi perché dicono quei soldi sono prenotati lì però devono essere confermati nei movimenti da contabilizzare trovi il codice di da inserire nella descrizione il codice da inserire in YouTube in Google o in quello che è per confermare la carta questo in generale spero che tu sia ancora qui Anna perché è passato un sacco di tempo dal messaggio o che magari lo guardi successivamente Arcangela dice ciao Daniele come mai quando accendo il pc automaticamente si aprono due finestre anche se la chiusura del pc viene chiuso regolarmente perché allora bisognerebbe vedere per dirtelo per certo però una possibilità è che ci sia un qualcosa in avvio automatico che lo tiene aperto adesso io qui ho Windows 11 e quindi mi è difficile fartelo vedere non so che Windows hai tu vediamo se abbiamo fatto un video sull'avvio automatico secondo me sì allora avvio automatico cerca video c'è qualcosa che avvio automatico programmi questo il numero 103 vai lì e vedi che alcuni programmi si avviano automaticamente all'accensione tu puoi intervenire e gestirli e se le finestre che si aprono riesci a individuare di che programma si tratta le puoi togliere facilmente anche se non riesci a individuare di che programma si tratta perché comunque in avvio automatico quasi sicuramente figurano mi è capitato solo con Sergio che ci sta seguendo adesso che non siamo riusciti a capire come mai gli si aprisse una finestra del browser però per il resto ci siamo riusciti quindi guarderei lì poi andiamo avanti saluto Giuseppe saluto Orazia saluto Vanni Fabio Massimo Teodomiro buonasera a tutti ciao Daniele digitalizzazione ok Teodomiro abbiamo avuto la risposta Luciano ciao Luciano ciao Mohamed ciao Aldo ciao Guido ciao Michele e poi gli amici che mandano i super chat gli abbonamenti grazie a infinite Giorgio buonasera Daniele a tutti i partecipanti stavo cercando le domande allora Anto Bruno dice buonasera Daniele quando scrivo una lettera e inavvertitamente tocco il tasto touchpad mi si cambia il testo che cosa si può fare per ripristinare la pagina di solito ctrl z ctrl premo e un colpetto sulla z subito per tornare indietro sai che puoi anche evitare di avere il touchpad aperto cioè puoi spegnerlo vediamo se troviamo il video touchpad vediamo ho messo che si scrive così perché il computer fa cose strane quando scrivi questo video qui il numero 63 guardate questo video qua così impari a spegnere e riaccendere il touchpad a piacere se scrivi tanto quello lo spegni e usi il mouse il mouse sempre ragazzi a meno che non siete sull'autobus o in treno e quindi siete lì così per il resto mouse e allora usiamo il computer altrimenti facciamo cose di fortuna quindi spegni il touchpad finisci di lavorare e poi lo riaccendi se ti serve allora ciao Emanuela ciao Anto ciao Lindo ciao Umberto Cristina Angela Angelo Quintilio ciao Quintilio dice non vedo spero che tu ci sia ancora adesso ci siamo Antonino buonasera Daniele cos'è il Dolby Surround ho visto che ti ha già risposto Anto è una cosa legata al mondo audio Anto ti ha dato una risposta più professionale io non ti avrei detto così ma mi fido di più di quello che dice lei e quindi va bene poi Tiziano ciao Tiziano ciao Emiliano Claudio Sabrina buonasera a tutti e a Daniele Giuseppe non riesco ad accedere alla visione ok Giuseppe spero che adesso tu sia con noi Emiliano dice Daniele la mia non è una domanda bensì volevo ringraziarti per il video sulla digitalizzazione grazie Emiliano Emanuela Piero poi vediamo Francesca Livio Gioacchino Leandro buonasera a tutti ciao Daniele buona visione a tutti saluti ok Vanni Emiliano di nuovo Sergio Andrea Emanuela Michele vediamo chi altro c'è tu Diana ciao Daniele grazie a te ho scannerizzato e digitalizzato ho spedito in allegato cose che prima non mi sognavo di fare tante altre cose grazie buonasera a tutti grazie fa sempre piacere sapere che la cosa funziona poi Fabio Claudio Benedetto ciao Benedetto Piero buonasera io le partite ah eccolo qua Piero dice buonasera io le partite in diretta le guardo su Dazon non so come si pronuncia sul computer le vedo a tratti mi puoi aiutare sì se le vedi a tratti vedi a tratti quindi un video perché la partita alla fine è la trasmissione di un video in diretta seppur in diretta il problema può essere computer o linea telefonica o un mix dei due vedo che sei abbonato quindi fai un salto guardare questo video qui allora vediamo internet lento cosa fare perché non è detto che internet sia lento comunque questi sono quattro video l'uno è quello sotto uno due tre quattro in cui abbiamo preso in considerazione le varie casistiche che possono far sì che il video il il flusso del video quando lo guardi al computer non sia stabile sia lento si incepi eccetera e quindi riuscire a focalizzare il problema e risolverlo alla radice quindi dai un'occhiata a questi a questi video che vedrai che ti aiuteranno allora poi vediamo un po' cos'altro si dice Claudio dice ciao Daniele vorrei conoscere il tuo parere sul gestore di password keypass eccetera sarebbe interessante un tuo approfondimento in merito particolarmente alla integrazione dell'ostessore del browser allora il mio parere allora questo non lo conosco come software di gestione password il mio parere è non si usano gestori password perché è come dare il portafoglio a uno che ti viene dietro cioè te dai il portafoglio a uno che passa per strada e dici senti tienimi il portafoglio quando mi servono i soldi te li chiedo te me li dai però è uno che non conosci a meno che tu non sia una persona che conosce proprio chi ha creato questo gestore devi essere fidato perché da programmatore ragazzi vi dico che quando voi fate un programma dentro ci potete mettere quello che volete e quindi questi software mi lasciano sempre un po' perplesso già non le metterei nel browser le password perché sono un facile bersaglio ok quindi se voglio capire le password di qualcuno per eccetera nel browser c'è sicuramente qualcosa tutti qualcosa ci salvano dentro quindi mi concentro quindi sono in vetrina lì per cui se devo fare un lavoro spendere tempo per cercare di quello è un bersaglio quindi se non ce le mettiamo è meglio questi software disconosciuti bisogna fidarsi ciecamente cosa che è meglio non fare c'è da dire una cosa in merito a questo se proprio devo affidarmi a un software esterno per gestire una mia cosa importante se proprio devo prendo un software open source ne abbiamo parlato tempo fa è un software gratuito il cui codice è libero e accessibile a tutti quindi i software open source quindi con codice libero accessibile a tutti che tutti possono vederlo sono più controllati perché se è un software particolare c'è chi va a guardarci dentro nel senso che chi è un tecnico programmatore è in grado di controllare se quel software fa solo quello che dice oppure no e quindi è una buona cosa se devo proprio sceglierne uno però c'è anche da dire questo se io sono una persona che cerca di violare le password di quei software lì il fatto che quel software abbia il codice libero mi permette di andare dentro a vedere come è fatto quali sono le misure di sicurezza che ha perché sono in chiaro e poi dopo pensare a come fare a superare queste misure di sicurezza quindi l'open source meglio ma per cose di questo genere mi lascia sempre perplesso e quindi vogliamo stare sicuri non usiamone vogliamo stare più comodi allora poi gestitevi di conseguenza Francesca le password si scrivono ragazzi quello sempre che usiate dei software oppure no questo è il consiglio di tutti i video di tutti i corsi che dico sempre le password si scrivono leggevo un commento di una persona che dice ma caspita io ho perso la password dell'ospedale e sono tre giorni che scrivo a tizio a caio all'assistenza eccetera nessuno mi risponde nessuno riesce a ridarmi una password perché non va persa la password ragazzi non va persa è come perdere la chiave della macchina se perdo la chiave della macchina resto a piedi viva e in concessionaria spendi dei soldi per farti cambiare tutto e ancora ancora mentre invece per una password di foto di account eccetera non ve le ridanno è un problema e perdiamo un sacco di tempo mentre invece le scrivevamo tutte in un bel posticino e quindi ci togliamo il problema in partenza Francesca come si fa a commentare con un partecipante in questa chat volendo evidenziare il suo nome per fare eccetera con la chiocciola se ci fai caso se non mi sbaglio si parte con la chiocciola si inizia a scrivere il nome e lui percepisce chi è il partecipante lo selezioni e ci sei poi LS eccomi arrivato buonasera a tutti voi ciao LS benedetto ecco con la chiocciola ha risposto lei lui a Francesca Anto anche Anto sa fare bene direi che ci siamo ragazzi siamo arrivati alla nostra alla nostra oretta serale direi che è volata questa sera mi sto salvando la chat quindi la sto copiando salvando in un nuovo blocco note quindi vado in blocco note no devo andare qui Windows 11 blocco note ctrl v per incollare file salva con nome chat 16 marzo marzo eccezionalmente sul desk perché è una cosa che devo fare e salva e adesso salterà fuori qua eccola lì e poi possiamo chiudere bene ragazzi ci siamo direi che abbiamo fatto tutto grazie infinite della pazienza questa sera avete dovuto anche aspettarmi grazie grazie infinite della partecipazione delle super chat dei super sticker degli abbonamenti di tutti i mi piace che avete messo vedo che ne avete messi tanti fate ancora in tempo a mettermi qualcuno in questo momento ci vediamo in diretta mercoledì prossimo e invece con i video sapete che domani venerdì sabato tutti i giorni tranne la domenica al momento c'è motivo di venire a vedere un video sul nostro canale ci vediamo presto vi sto salutando ma non sono pronto ecco adesso sono pronto ciao ragazzi buona serata ciao ciao